ciao a tutti i ragazzi dal vostro del caso 92 volevo dirvi precisamente due cose la prima ragazzi che probabilmente non riuscirà a fare più live e perché non riuscirà a fare più live perché praticamente sono andato in live e tutti già ti scrivono dark il microfono dark medici quale microfono scusa non riesco a capire dopodiché ho ascoltato la live e in effetti il mio microfono cioè che poi non era solo il microfono era tutto 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 l'audio del gioco il microfono è tutto robotico a rallenti e allora ho detto boh non lo so ho provato a fare alcuni test dove comunque cercavo di sistemare il tutto ma non riuscivo e tuttora non ci riesco riavviato due volte il computer ho cercato di fare qualunque cosa ho staccato il microfono l'ho riattaccato resettato tutto o aggiornato per giunta pure obs con la speranza detto vabbè può darsi che è perché la vecchia versione niente l'ho aggiornato niente di niente ragazzi niente di niente ho disinstallato pure obs l'ho ristallato ho fatto il reset del pc a due giorni fa niente di niente non riesco a capire qual è il problema se c'è qualcuno che se ne intende tantissimo sia di pc che di obs streaming eccetera eccetera me lo faccio sapere qui sotto nei commenti perché ho davvero bisogno io purtroppo non me ne intendo tanto di sta roba quindi ragazzi mi dispiace ma per qualche giorno probabilmente almeno fin quando non riuscirò a sistemare questa cosa non ci saranno streaming e non so forse porterò qualche video non lo so ragazzi mi dispiace tantissimo un bacio al vostro darkhouse 92 e non ci vediamo prossimamente che vi devo dire mi dispiace un bacio per voi buona giornata ciao ragazzi ciao 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 ciao